Marcello, complimenti l'anno scorso terzo, quest'anno primo, raccontaci la gara di quest'anno. Sì, l'anno scorso ho preso un po' le misure, ho visto che a piedi dovevo migliorare tanto, quest'anno è un mesetto che mi alleno due o tre volte a settimana, quindi ho cercato di migliorare il più possibile a piedi, in bici non ero al top, però è stata una bella corsa, sono partito gestendola a piedi, ho cercato di non lasciare troppo a quelli davanti, però comunque neanche di affaticarmi troppo, poi in bici ho dato tutto e ho preso il margine necessario per arrivare davanti. Sulla carta avevi degli avversari molto forti, Cigana e Guidelli, loro sono stati messi fuori gioco, si sono ritirati, come sarebbe andata con loro in gara? Guarda, non lo so, io non ho misure con loro, mi dispiace molto non aver potuto giocarcela sul campo, sicuramente ci troveremo l'anno prossimo in qualche altra gara e vedremo che è più forte. Perché è bello venire al Duatron di Coreniano? Ma diciamo che a me il Duatron mi piace, mi piace la mountain bike, mi piacciono i vigneti, qua in mezzo, anche l'anno scorso era una giornata bellissima di sole, quindi è veramente una bella gara, sono contento, ritornerò ancora e spero sempre in questa condizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!